Il volontariato giovanile presenta numerosi aspetti di interesse per le scienze sociali, è una forma di cittadinanza attiva, contribuisce al benessere sociale, favorisce la maturazione dei giovani, l'acquisizione di competenze e la spendibilità nel mercato del lavoro. È quanto emerge dalla tesi di un piacentino, Paolo Pantrini, che ha studiato il volontariato giovanile a Piacenza. 25 anni, laureato in servizi sociali a Milano, Paolo ora lavora alla SOFA e collabora con il Centro Studi e Inaudi di Torino e con il Laboratorio di Ricerca Secondo Welfare, diverse le indagini effettuate nell'ambito delle nuove povertà, della filantropia comunitaria e delle cure palliative. Nell'attuale fase storica e sociale i giovani fanno volontariato non per rispondere a un bisogno etico-ideologico, non solo quello, non c'è più il grande volontariato di stampo cattolico, di stampo socialista o di altre ideologie politiche, ma perché il volontariato risponde alle esigenze di vita, esigenze di fare esperienze, esigenze di crescere, diventare autonomi, assumersi le responsabilità, di maturare e acquisire competenze che possono essere spendibili sia sul piano formativo che sul piano lavorativo. A SOFA e Amnesty International le realtà nelle quali Paolo Pantrini ha svolto volontariato attivo. Lo studioso guarda con attenzione alla riforma del terzo settore che prevede il riordino del no profit e potrebbe avere ripercussioni positive. Credo che anche il volontariato giovanile si possa inserire in questo processo di trasformazione, in quanto si è già visto come può dare un forte contributo alla vita dei giovani e può rispondere anche a molte problematiche del sistema di vuole fra proprio relativa ai giovani, come l'inocufazione, il fenomeno dei miti, problematiche formative, il crescente emergere di disturbi anche psicologici tra i giovani legati a problematiche sociali più ampie, come le marginalità, le difficoltà a avere percorsi di vita soddisfacenti. Quindi credo che il volontariato abbia ancora molte potenzialità da esprimere.